La fanfara dei bersaglieri, il gruppo degli sbandieratori di Cava dei Tirreni, formata dagli studenti delle scuole secondarie, lo spettacolo in teatro, i campioni del mondo di scherma under 20, l'animazione per i più piccoli e una catena umana attorno alle fontane e ai giardini, per dire no alla discriminazione e sì alle pari opportunità, all'eguaglianza nei diritti per tutti i minorenni, al diritto all'ascolto e alla partecipazione dei bambini e degli adolescenti. C'era tutto questo stamattina alla mostra ad oltremare dove è stata festeggiata la giornata universale dell'infanzia e dell'adolescenza organizzata dall'Unicef Campania. Il tema della giornata è stato quello dell'accoglienza e dell'integrazione, così come indicato dalla campagna Io come tu, mai nemici per la pelle, nel corso della quale è stata conferita la cittadinanza onoraria ai bambini nati nel nostro paese da genitori stranieri, circa 30.000 in tutta Italia. In Campania, come spiegato dalla presidente del comitato regionale Unicef Margherita Di Niciacci, 62 sindaci hanno aderito al progetto. Ad assegnare la cittadinanza ai bimbi delle 90 etnie presenti sul territorio napoletano, fra cui tre piccoli rom che abitano nel campo di Scampia, è stato il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris. Napoli ha già sposato un principio che dovrebbe essere legge nel nostro paese e non lo è ancora, c'è quello che chi nasce nel nostro paese è cittadino italiano. A Napoli, anche se in modo simbolico, ma in modo forte è così. Noi non facciamo differenza tra cittadini italiani e cittadini stranieri. Chi nasce a Napoli per noi è cittadino napoletano e quindi cittadino italiano. Oggi è anche il momento però per ricordare che dobbiamo essere sempre di più una città a misura di bambini e quindi in ogni atto che adottiamo, in ogni comportamento, e in ogni prassi dobbiamo ricordarci che i bambini soffrono più di altri di spazi negati e di diritti negati.